Ciao a tutti gli amici dell'architettura sostenibile, oggi siamo in cantiere e siamo venuti a vedere questo tetto che stiamo strutturando dove verrà demolito, oggi siamo nella fase di demolizione dove si può vedere come sono le strutture. Questo tetto ha all'incirca 77 anni, è stato costruito nel 1445 vediamo le strutture esili che ci sono piegate al peso del tempo proprio e questa struttura che è un po' collassata appunto andremo a togliere tutta questa struttura e andremo a rifare la copertura sempre in legno però con la prefabricazione isolando con all'interno la fibra di legno. Come vedete quando si costruiva nel tempo si andava a usare questo materiale. Qui siamo su un solaio di X-Lam, adesso questo balla, siamo su un solaio di X-Lam di 14 cm, bello stabile. Andiamo dalla parte di qui, dove andremo a creare una nuova scala qui sotto, qui ci sarà il piano a otto e qui accederemo al nuovo piano della casa accessibile anche dall'altra parte. Ecco, questo è come si presenta un tetto prima di fare una strutturazione da domani andremo a strutturare questo tetto, come vediamo, che è del 1945. Se vuoi altre informazioni su questo tipo di strutturazione con i materiali...